Emma Marrone ha fatto un annuncio a tutti i suoi follower con una citazione che molti non hanno capito Sui social ha scritto anche se tutto va a pezzi ti porto con me Taxi sulla luna fuori questa notte un'ora dopo la mezzanotte Infatti è uscito il 9 giugno un singolo taxi sulla luna in collaborazione con Tony F Il pezzo è stato prodotto da Takagi e Ketra Questo è veramente esplosivo e fa incontrare due panorami musicali differenti trasformando le spiagge italiane in club